Buonasera e ben trovati in questa seconda edizione del TG6 in apertura la cronaca con una operazione portata a termine dai carabinieri di Popoli che hanno arrestato due persone con l'accusa di usura ai danni di un imprenditore. Paolo Renzetti. L'attività d'indagine nasce proprio da un'attività informativa sul territorio per la tutela di aziende già in situazione di crisi. Proprio dal monitoraggio di queste aziende siamo giunti all'informazione della difficoltà economica di questo imprenditore. Proprio da lì all'insaputa dell'imprenditore ma anche per tutelarlo abbiamo iniziato una serie di attività in via tradizionale quindi con attività di informazioni ma anche attività finalizzate al quotidiano, a monitorare il quotidiano di questo imprenditore. Da quel momento poi abbiamo dato inizio alle attività tecniche vere e proprie, quindi con intercettazioni telefoniche che hanno permesso di svelare il quadro di vestazioni e di usura a cui l'imprenditore era sottoposto in virtù della difficoltà della sua azienda. Stiamo continuando a monitorare il territorio e le sue aziende per verificare la presenza di situazioni similari. Sicuramente ci sono già ulteriori situazioni al vaglio. C'è anche l'ex sindaco di Penne Rocco D'Alfonso accusato di abuso d'ufficio tra gli indagati nel filone relativo alla città pennese della mega inchiesta della Procura della Repubblica dell'Aquila su una serie di appalti della regione Abruzzo. Un'indagine coordinata dal procuratore Michele Renzo e dal sostituto Antonietta Picardi che arriva così a 28 indagati noti negli 8 fronti investigativi attualmente aperti con ulteriori sviluppi attesi tra cui dirigenti e funzionari regionali, professionisti esterni, imprenditori, il presidente della regione D'Alfonso e gli assessori regionali Sclocco, Paolo Ucci e Pepe. Le ipotesi di accusa a vario titolo sono di corruzione, turbativa d'asta, falso ideologico, abuso d'ufficio. Rocco D'Alfonso è attualmente nello staff a Pescara della squadra del presidente della regione Luciano D'Alfonso. Anche egli coinvolto in questo filone come svelato da lui stesso giovedì scorso quando la notizia dell'inchiesta è divenuta pubblica in una delle tre note che ha diffuso ai media. Questa mattina nella sala consigliare della provincia di Teramo si sono riuniti i sindaci dei 47 comuni del Teramano. Il presidente Renzo Di Sabatino ha relazionato sul suo intervento ieri a Montecitorio ed è stata confermata la marcia di protesta per Roma prevista per il prossimo 2 marzo. Tania Bonnici Castelli. È stato un intervento duro, circostanziato e parecchio determinato quello che il presidente della provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino, ha pronunciato davanti alla Commissione Ambiente di Montecitorio. Parole appassionate che hanno tracciato i contorni della situazione attuale del territorio teramano, forse poco conosciuta dai parlamentari presenti che ritraggono una terra gravemente ferita dai terremoti, maltempo e adesso da frani irrefrenabili. Abbiamo chiesto un adeguamento e un forte correttivo al decreto legge che è in via di conversione. Io ho fatto presente che risorse per il maltempo, risorse certe e risorse anche rapidi ci consentono di poter dare delle risposte alle nostre imprese, alle nostre attività produttive e quindi quello è un primo passo. Oltre a quello una serie di questioni, lì particolarmente centrate sulla provincia perché la nostra audizione era come presidente di provincia, in quanto prima di me sono stati sentiti il sindaco di Teramo, il presidente della regione e così via. Però la chiarezza della nostra esposizione è stata ci dovete dare delle risposte che sono adeguate alle situazioni di emergenza che stiamo vivendo. Intanto i sindaci dei comuni terramani si ritrovano ancora una volta insieme e confermano la loro partecipazione all'iniziativa di protesta del 2 marzo che li porterà a marciare su Roma per chiedere, ma soprattutto per ottenere sostegni immediati alla popolazione. Quando arriveranno queste risposte secondo lei? Allora, io spero che da qui al 2 marzo intanto il decreto abbia una sostanziosa e corposa modifica e tenga conto del fatto che maltempo e terremoto di gennaio ce lo siamo beccati tutti in provincia di Teramo, in regione Abruzzo. Due, e quindi una risposta anche attraverso delle ordinanze della protezione civile. Due, che il terremoto appunto tenga conto in particolare di questo e tre, che ci sia un riconoscimento particolare per la situazione particolare che abbiamo in favore dei privati, in favore dell'attività produttiva, in favore del commercio di questo territorio. Anche la regione Abruzzo sta muovendo i suoi passi. Il governatore D'Alfonso ha chiesto al Premier Gentiloni la copertura finanziaria e legislativa per il cratere sismico e le aree colpite dal maltempo di gennaio scorso. La politica tutta è in campo per raggiungere questo risultato. Abbiamo una grande responsabilità nel senso di fare un lavoro per far capire al Parlamento, visto che il governo non lo ha compreso, quello che è successo in Abruzzo, segnatamente ad agosto, ad ottobre, poi a gennaio, far capire che questo territorio è in una grandissima difficoltà materiale, ma anche morale e psicologica. Per sabato mattina alle 10.30 ho convocato tutti i parlamentari della provincia di Pescara per chiedere una seria assunzione di impegni, sia sulle ultime criticità che sulla più generale condizione di dissesto idrogeologico in cui verse il territorio. Lo ha detto il Presidente della provincia di Pescara, Antonio Di Marco, questa mattina nel corso del Consiglio Provinciale straordinario sulle emergenze, sisma e maltempo. Soltanto nei comuni del comprensorio, dunque, senza contare le scuole e le strade provinciali, registriamo danni per 60 milioni di euro, ha aggiunto Di Marco. Dunque non c'è solo l'emergenza della provincia di Teramo, ma ci sono anche i problemi delle province di Pescara e Chieti, che a Roma sarà importante far pesare. Per questo chiederò a tutti i parlamentari, conclude il Presidente della provincia, di sottoscrivere una dichiarazione di intenti nella quale si metteranno nero su bianco i bisogni del territorio. Intanto ci sono ancora dei problemi su questo fronte, perché se i nuclei familiari sono stati fatti evacuare oggi pomeriggio a Caprara di Spoltore, sempre in provincia di Pescara, in Via della Libertà, zona interessata da un movimento franoso conseguente al maltempo del gennaio scorso. Lo ha annunciato il Sindaco Luciano Di Lorito al termine di una riunione da lui convocata per la gestione dell'emergenza. Sul posto questa mattina sono intervenuti i vigili del fuoco di Pescara assieme ai tecnici dell'ente per verificare quanto accaduto. L'area a rischio è stata interdetta al pubblico e transennata. Secondo la relazione redatta dei vigili del fuoco, è necessario fare seguire una indagine idrogeologica al fine di stabilire l'effettiva estensione del dissesto in atto e di predisporre adeguate opere di monitoraggio, consolidamento e messa in sicurezza. L'area a vestina è stata investita dalla tragedia di Rigopiano e da altre problematiche legate al maltempo. Ma come sottolinea il vicepresidente della regione, Lolli, ha anche delle eccellenze intorno alle quali costruire un progetto di rilancio. L'area a vestina è contemporaneamente l'area sulla quale si è abbattuta non solo la tragedia di Rigopiano, ma anche tutto il resto delle gravissime vicissitudini che abbiamo avuto in quest'ultimo periodo e quindi è un'area che sta in una sofferenza terribile dal punto di vista del turismo ma anche da altri punti di vista e però contemporaneamente è un'area che ha delle potenzialità straordinarie. Qui sono concentrati alcune delle eccellenze d'Abruzzo, qui c'è Labrioni, qui si sta Valentini, qui ci sono gli olivicoltori più importanti d'Abruzzo, qui c'è Marcello Spaduto della Bagliera, qui c'è la Cogestre, qui c'è il pecorino di Farindola. Abbiamo quindi una concentrazione di potenzialità enormi e contemporaneamente problemi giganteschi. Ne vale la pena di provare qui a costruire un prodotto che sia un prodotto di grande qualità e lanciarlo sui mercati. Per fare questo però ci vuole un po' di tempo, intanto dobbiamo far sopravvivere le persone e soprattutto gli operatori turistici i quali sono fondamentalmente piccoli operatori che si trovano in condizioni disperate e che hanno bisogno di un aiuto immediato per la propria sopravvivenza. Lo spopolamento delle zone interne dell'Abruzzo verso la costa o verso altre città e regioni italiane è un problema storico. Ha avuto negli ultimi due mesi un'accelerazione impressionante, mai vista. Io non so se in altre regioni sta succedendo, non credo, quello che sta succedendo da noi in modo particolare, soprattutto nel Teramano, compresa la città di Teramo, ma in parte anche nell'Aquilano, compresa la città dell'Aquila e anche qui. Cioè la gente non... Già vivere in una zona di montagna è molto più costoso, complicato e difficile. E per di più in questa fragilità mostruosa nella quale si vive. Col problema delle scuole la gente va via. la gente, io sento che la gente sta mollando, anche psicologicamente. Quindi se non interveniamo subito con misure urgenti, anche con una prospettiva però, io ho paura che dopo facciamo solo chiacchiere. A proposito di problemi nelle scuole, all'ITS Marconi di Penne, molti studenti hanno iniziato il cosiddetto doppio turno e la dirigente scolastica Angela Pizzi parla delle conseguenze di tale decisione. Presidente Angela Pizzi, dopo le nevicate e il terremoto degli ultimi giorni, da oggi la scuola Marconi si è iniziato con i doppi turni, ma le notizie non sono positive. Non possono essere positive perché comunque il doppio turno implica che lo studente sia fuori comunque buona parte della giornata e soprattutto deve rinunciare, almeno nella settimana del turno pomeridiano, alla propria vita sociale. Ora, questa è una soluzione che sicuramente non può durare a lungo. Noi speriamo, insomma, che da Roma, dallo Stato, dal Ministero, presto facciano venire dei MUSP, quindi questi moduli ad uso scolastico provvisorio, che potrebbero risolvere la situazione, sono gli unici ad oggi. Tra l'altro il problema veramente grave resta quello del trasporto. Oggi abbiamo saputo che alcuni ragazzi non sono riusciti ad arrivare a scuola in orario perché i mezzi non sono passati. Quindi per noi è un ulteriore problema. Sappiamo che nei giorni scorsi si è avuta la visita di un referente del Ministro dell'Istruzione per la posizione dei MUSP. Come è andata? Quale notizia avete di concreto? Allora, in realtà abbiamo scoperto proprio in quell'occasione che dal Ministero hanno dato delle disposizioni per cui tutti i problemi relativi alle situazioni di emergenza sono divisi in due grandi filoni. Purtroppo il filone che ha accolto la nostra richiesta d'aiuto non era quello sperato. Noi speravamo proprio che fosse quello per l'installazione di questi MUSP. Invece il funzionario che è venuto, che tra l'altro è stato gentilissimo e che ringrazio, si è occupato del benessere dello studente, e quindi del materiale che eventualmente abbiamo disperso durante il crollo. Dobbiamo ancora attendere, quindi siamo ancora in attesa di avere le risposte che speriamo. Ci siamo in parte illusi. Torniamo ora sulla costa perché in Camera di Commercio a Pescara questa mattina in una tavola rotonda si sono affrontate le problematiche relative al porto di Pescara. Quella del porto di Pescara è una battaglia che va avanti. Intanto l'autorità portuale è quella di Ancona e si attendeva quella di Civitavecchia. Oggi si continua a parlare di quella che può essere una soluzione per tutto l'indotto che gira e ruota attorno a Pescara. Noi saremo, e l'ho detto già pubblicamente, più che controllori. Dipende da Ancona mantenere un equilibrio in questa mare centrale dell'Adriatico. Equilibrio che significa? Significa che ogni euro speso va ripartito tra la portualità delle Marche e la portualità dell'Abruzzo. Quello che ci preoccupa e Ancona deve garantircelo, però devo dire che stanno lavorando in questo senso, è che se tu attrezzi un porto, per esempio Ancona, in modo competitivo lo devi fare anche qui. Poi ce la giochiamo alla competizione sul mercato e non rinunciamo alla nostra funzione trasversale, cioè di incrociare i traffici dall'est per portarli all'altra parte della sponda italiana, cioè sul terreno. È chiaro che a Pescara, quando si parla di porto, c'è un certo sconforto, è innegabile. C'è un'economia che negli anni si è completamente depotenziata, hanno chiuso diverse imprese, molta gente ha perso il suo posto di lavoro. Da qui la necessità della Camera di Commercio, che rappresenta un po' la Camera di Commercio e la Casa delle Imprese, di rispingere ancora un'azione forte nei confronti delle istituzioni, perché tutto ciò trovi la parola fine. Ma tutto questo deve essere assolutamente di una rapidità assoluta, perché, le ribadisco, ci stiamo invecchiando, discutendo di un porto che di fatto ormai da 9-10 anni non cambia le proprie condizioni di fruibilità. Al centro del tavolo l'autorità portuale di Ancona, questo sarà una responsabilità verso l'Abruzzo o una collaborazione? Qual è il futuro? Siamo sei porti, saremo sei porti tutti insieme per fare una strategia molto forte e una banchina virtuale di 215 km che parte da Pesaro e arriva a Ortona. Per cui c'è una grande opportunità per tutti noi per far crescere l'economia, per lavorare in sinergia, per sfruttare ed esaltare tutte le peculiarità dei vari porti, ma soprattutto per creare le premesse per aumentare l'occupazione. Confartigianato Abruzzo chiede alla Regione risposte certe e misure immediate per contrastare lo stato di crisi e in caso contrario è pronta a proclamare lo stato di agitazione del settore. Nei primi giorni dell'anno abbiamo avuto direi un incontro storico oserei definire perché praticamente tutte le associazioni di categoria unite assieme alle tre Sligle sindacali CGL e Cisleville veramente per la prima volta nella storia hanno portato all'attenzione dell'assessore Lolli dieci punti fondamentali per il rilancio della piccola e media impresa. Questi punti toccati sono chiaramente la bottega a scuola i cat artigianato artistico e soprattutto un punto fondamentale è l'accesso al credito. Chiaramente la piccola e media impresa è quella che ha difficoltà maggiore a dialogare con gli istituti di credito ma soprattutto perché negli ultimi anni c'è stata una flessione di circa l'8% appunto di accesso al credito da parte delle imprese. Le imprese chiaramente stanno morendo e chiediamo alla Regione un sostegno in tal senso assolutamente. Abbiamo di comune accordo appunto con l'assessore fissato questi punti e li abbiamo anche condivisi con lui quindi questa volta ci sono state delle promesse ben precise che entro fine mese comunque si sbloccavano dei fondi e non possiamo assolutamente più attendere. Sono troppi anni che appunto facciamo dei tavoli dialoghiamo ma ora è arrivato il momento di fare qualcosa perché le imprese continuano a morire e non possiamo assolutamente più aspettare quindi aspettiamo veramente solo solo veramente qualche giorno e poi ci sarà lo stato di agitazione di tutta la categoria. Cambiamo pagina all'Aquila il partito di rifondazione comunista si prepara per le prossime elezioni comunali e cerca alleati per formare una coalizione di sinistra ma allo stato attuale impossibile allearsi con il PD di Renzi e D'Alfonso dicono Germana Dorazio Rifondazione comunista cerca alleati per le prossime elezioni comunali con il progetto Città Ribelle ricalcato su altre esperienze italiane come la città in comune il partito della rifondazione comunista si appella a movimenti partiti e cittadini purché lontani dall'andamento del PD di Renzi anche all'Aquila abbiamo proposto già fatto più di una riunione per costruire un'alleanza di questo tipo che sappia dare respiro a un'alternativa possibile all'austerite europea e alle politiche di molte amministrazioni schiacciate dall'austerite europea rappresentate in Italia dal Partito Democratico Noi auspichiamo di poter collaborare e allearci con le forze a noi vicino territorio collettivo sinistra italiana appello per l'Aquila per ricalcare l'esperienza di tante città Napoli su tutte dove De Magistris governa con la cosiddetta coalizione della città ribelle non abbiamo pregiudizi nei confronti di altre forze centrosinistra il PD se il PD esce dal PD come è stato detto in conferenza stampa noi saremmo ben lieti di continuare un percorso amministrativo però è chiaro che se il PD è il PD di Renzi e di D'Alfonso per una forza di sinistra al di là di rifondazione per una forza di sinistra diventa impraticabile quella strada per i temi classici sui quali ci siamo battuti ambiente, infrastrutture ricostruzione delle frazioni questione universitaria e questione morale saranno i temi che Rifondazione Comunista porterà nella campagna elettorale per l'elezione del nuovo sindaco del capoluogo per quanto riguarda la figura di Trifoggi come vi relazionerete con lui? Su questa vicenda della questione morale Trifoggi è stato un punto di riferimento ed è stato intransigente come vice sindaco ci piacerebbe avere Trifoggi come interlocutore in questo calderone Scuola di Democrazia la storia di Marco Pannella e delle sue battaglie politiche una biografia che sarà presentata sabato 25 febbraio all'auditorium Petruzzi di Pescara con la partecipazione di tanti amici tra cui Germano D'Aurelio che si presenterà in veste di moderatore d'eccezione Francesca Romana Testi La presentazione di un libro che celebra la Scuola di Democrazia di Marco Pannella è induccio Germano D'Aurelio è il promotore di questa giornata di questa presentazione una storia che abbraccia tutto l'Abruzzo l'evento viene destinato a cosa? Il libro sarà presentato all'auditorium Petruzzi sotto al museo delle genti di Abruzzo un punto centrale a Pescara sabato 25 alle 15.30 tantissimi ospiti importanti a parte che ci sarà il collegamento con Radio Radicale anche se la trasmissione sarà indifferita io sarò un moderatore un piccolo moderatore insieme a me il direttore di Radio Radicale che è Alessio Falconio abruzzese pure lui e poi i big dal direttore del centro che è primo di Nicola poi c'è Franco Marini già presidente del Senato poi abbiamo il governatore d'Abruzzo Luciano D'Alfonso è prevista la presenza di Giovanni Legnini e poi i coautori di questo libro Laura Hart e Matteo Angeli speriamo di dare un senso bello a un pomeriggio importante definendo i contorni di un personaggio importante per la politica abruzzese ma non solo per la politica abruzzese ma per tutte le riforme e tutte le lotte con cui ha messo a repentaglio la sua stessa salute i comici basano il loro lavoro proprio sull'analisi e lo studio della politica dei personaggi della politica allora Induccio se dovesse trarre un tratto distintivo di pannella quale sarebbe qual è? si è sempre raccomandato sul palco di essere finti cioè con la complicità del pubblico di fare della finzione del teatro ma non falsi perché quello che si dice sul palco a volte molto spesso o sempre è la pura verità un'asta di beneficenza dedicata ai piccoli pazienti dell'Agbe l'associazione che da 20 anni si occupa di dare ospitalità gratuita e servizi a tutti i nuclei familiari che devono affrontare le terapie dei propri figli sabato 25 febbraio presso il circolo a Ternino di Pescara un gruppo di artisti metterà a disposizione le proprie opere per una raccolta di fondi il titolo è il cuore dell'arte una mostra di sculture e quadri e il ricavato andrà proprio all'associazione Agbe di Pescara in questo caso c'è già un obiettivo qual è? fino a poco tempo fa avevamo soltanto 4 bambini giornalmente a dei ospiti adesso abbiamo la media di 20 bambini al giorno quindi abbiamo bisogno abbiamo bisogno di appartamenti abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti quindi ecco come dicevi questo sogno è realizzare ancora 3 appartamenti in modo da poter sostenere più adeguatamente tutte le famiglie e il comune di Pescara partecipare a questa iniziativa di beneficenza l'appuntamento è in uno dei luoghi simboli della città sì il circolo a Ternino in piazza Garibaldi per sabato 25 alle ore 17 qui c'è un'iniziativa in cui c'è tanto cuore il cuore del comune il cuore dell'agbe il cuore dei 32 artisti pittori e scultori della nostra provincia che hanno donato ciascuno una loro opera che è in mostra il circolo a Ternino che può essere visionata in questi giorni adesso manca un cuore il cuore speciale dei pescaresi che devono venire devono partecipare e devono fare delle offerte tutto il ricavato consentire a loro di portare a casa una bella opera ma soprattutto di aiutare l'agbe perché tutto il ricavato andrà in beneficenza a questa associazione ospiti d'eccezione per un'asta di beneficenza un grande amico dell'agbe chi ci sarà? ci sarà signore e signori Ugo Petina Dragotti eccolo qua signore e signori Marco Papa siamo noi i battitori liberi quindi che cosa facciamo in pratica alla fine ci dobbiamo voler bene per questo giorno mettiamo il cuore oltre l'ostacolo ecco esatto va bene 25 febbraio venite tutti quanti non mancate ore 17 puntuali sarà un carnevale tutto dedicato ai bambini quello che l'amministrazione comunale di Teramo ha organizzato per domenica 26 febbraio un'intera giornata da trascorrere in piazza tra giochi musica attrazioni e sorprese tristezza bandita a Teramo almeno per un giorno domenica 26 febbraio si farà festa in piazza per tutta la giornata un carnevale dedicato soprattutto ai bambini che potranno sbizzarrirsi tra giochi animazioni e maschere le zone interessate saranno piazza Marti e il corso San Giorgio sarà un parco gonfiabile già pronto dalla mattina poi diciamo che la festa è vera e propria inizia il pomeriggio dalle 15 in poi avremo insomma trucca bimbi avremo diverse attrazioni per i bambini avremo un gruppo musicale che fa musica dei cartoni animati questo fino alle 6 poi per non come dire interferire con la messa la messa si trasferirà ci sarà un momento con un dj che si svolgerà lungo Corso San Giorgio ci saranno tante sorprese per i bambini che parteciperanno al carnevale di Teramo tra queste la possibilità di cavalcare un pony e quella di scoprire un carro pieno di magie la vostra organizzazione che cosa offrirà ai bambini di Teramo? allora noi siamo un centro ippico e offriremo la possibilità di fare dei giri con i pony anche quest'anno come tutti gli altri anni abbiamo portato i pony e anche un carro un carretto diciamo in una biga dove i bambini si divertono a salirci ci sarà un solo carro ma sarà bellissimo sì noi contiamo veramente di realizzare una bella opera siamo già al lavoro grazie anche alla collaborazione dell'officina di Salini Gianni a Villa Vomano sarà un carro a tema e il suo nome sarà il campo dei miracoli di Collodiana Memoria un po' perché che miracoli farete? un po' perché di miracoli avremmo proprio bisogno in questo periodo un po' per esorcizzare tutto quanto di negativo ci è capitato vogliamo cercare di tornare alla normalità e tornare così anche tutti un po' bambini cercando di riscoprire le meraviglie del Carnevale perché almeno a Carnevale tutto vale tutto si può fare apriamo la pagina dello sport e parliamo di Serie A e di Pescara che continua a preparare la trasferta di domenica al Bentego di Riverona contro il Chievo oggi singola seduta al pomeriggio ancora tanti tifosi presenti al poggio per vedere la seduta diretta dal tecnico Zeman lavoro ancora differenziato per Girardino Baebec e Campagnaro intanto per la gara di domenica è stato designato quest'oggi il direttore di gara Gavi Lucci della sezione di Latina ascoltiamo cosa dice il difensore Guglielmo Stendardo proprio sul vento in panchina del tecnico Boemo Dal vivo è una metodologia nuova basata su un lavoro fisico atletico importante che sicuramente ci darà dei benefici almeno me lo auguro da parte nostra c'è la massima disponibilità dobbiamo cercare di adattarci di adeguarci e sicuramente avremo dei benefici conoscete meglio di me il mister i suoi metodi di lavoro non conoscevo però come ho detto prima la sua ironia quando una persona è ironica significa che è una persona molto intelligente cosa è cambiato rispetto al Pescara di Oddo oltre al risultato è cambiato che abbiamo vinto una partita anche se sono convinto che con una vittoria non abbiamo risolto i nostri problemi bisogna dare continuità alle prestazioni sappiamo che la classifica è difficile il campionato è impegnativo però se dovessimo dar seguito alle prestazioni come quella di domenica è ovvio che la nostra autostima aumenterà e così potremmo ottenere sicuramente dei risultati migliori noi abbiamo sofferto insieme ai tifosi insieme alla piazza insieme alla società per i risultati che purtroppo non sono arrivati negli ultimi tempi e capisco anche la rabbia la delusione dei tifosi così come ho percepito la gioia e il calore di domenica quando abbiamo terminato la partita giocando una partita fantastica e vincendola direi meritatamente contro una squadra come si può fare insomma ma io credo che ci siano delle buone possibilità anche se è un'impresa difficile lo dimostra la classifica lo dicono i numeri però nel calcio da tanti anni io vivo in questo mondo e nel calcio ci potrebbero essere delle belle sorprese per quanto riguarda la Lega Pro il Teramo ieri ha vinto il recupero con il Pordenone per 2 a 0 il giudice sportivo ha inflitto una giornata di scuolifica al difensore imparato che ieri è stato espulso al pari del difensore del Pordenone Ingegneri e poi sempre il giudice sportivo ha combinato un'ammenda di 3.000 euro al Teramo e con questa ammenda il Teramo sale al quinto posto nella classifica non edificante di squadre più multate dell'intera Lega Pro con 12.000 euro complessivi per la partita invece di domenica contro il Padova all'Euganeo è stato designato il direttore di gara Daniele Viotti di Tivoli assistenti dell'Università di Aprilia e Rabotti di Roma 2 il servizio Una vittoria corroborante non c'è che dire il Teramo che esce dal recupero col Pordenone con vista già sul Padova sembra aver quantomeno trovato quell'equilibrio che probabilmente è l'ingrediente che finora è mancato anche aver tenuto per la seconda volta consecutiva la porta inviolata è il primo mattoncino pesante che Ugolotti ha piazzato al centro del progetto di rilancio Si vincono i campionati e si ci salva senza subire reti in questo momento basta vincere 1-0 basta vincere non bisogna vincere 4-0 bisogna fare punti la prima cosa da sistemare sicuramente è dare solidità lavorare sul reparto difensivo perché quando siamo arrivati adesso le statistiche le guarderemo però eravamo la terza peggior difesa dare non prendere gol significa lavorare anche con i ragazzi con uno spirito diverso ti ascoltano seguono non è che non l'hanno fatto prima però è normale che c'è uno spirito diverso Lo spirito sì ma anche la possibilità di attingere a piene mani da una rosa ampia a cui va comunque chiesto sempre quel sacrificio intravisto con i Neroverdi in alcuni reparti abbiamo un'abbondanza e abbiamo qualità perché se andiamo a vedere le presenze di questi ragazzi in determinati ruoli sono ragazzi che hanno sempre fatto 20-25 partite non qua ma probabilmente in altre squadre abbiamo qualche problemino numerico in mezzo al campo dove abbiamo tanti ragazzi giovani che si devono far trovare pronti perché man mano che li conosceremo probabilmente ci sarà spazio abbiamo possibilità di giocare con le due punte di conseguenza abbiamo gli esterni che non siamo in numero eccezionale di conseguenza uno si rende conto anche per la programmazione di un allenamento lo schema giusto per poter affrontare una squadra insomma Ugo Lotti sembra aver almeno virato l'umore in casa biancorossa clima tendente alla schiarita dopo le nubi che hanno attanagliato il diavolo ma nel tour de force che attenderà il Teramo c'è uno scontro tutto biancorosso domenica pomeriggio all'Euganeo gara difficilissima ma che da mercoledì si può guardare già con un altro piglio io mi auguro che sì noi adesso abbiamo un tour de force perché se dovessimo guardare le squadre che affrontiamo vista la classifica ci dovremmo impressionare siccome io non mi impressiono noi non ci impressioniamo lavoriamo sul campo andiamo a preparare adesso ci godiamo momentaneamente questa vittoria che ci aiuta a lavorare aiuta i ragazzi perché se lo meritavano perché torno a ripetere è dal 4 mi sembra di dicembre che non sorridono aver fatto anche Natale senza sorridere non è bello aver cambiato tre allenatori non è bello perché sono dei professionisti di conseguenza si nota questo nei ragazzi io mi auguro che già da domani vengano con lo spirito che hanno sempre avuto ma col sorriso perché torno a ripetere in fin dei conti è sempre uno sport è sempre una partita di calcio finisce qui la seconda edizione del TG6 la prossima alle ore 23 grazie per l'attenzione e buona serata grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione